Abbiamo l'elettricità scatica che si forma sulla superficie. Usiamo un tracolone, comincia proprio in nero. Speriamo che si aprano tutti. Il colore c'è una sostanza che fa dilattare il suono. Il terzo colore è il sottofino. Il 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 colore è il sottofino. Adesso possiamo lavorare il colore per poter fare un sottofino. Il colore è il sottofino. Già si intravede l'assunzione di un disegno. Però non è ancora quello definitivo. Il colore è il sottofino. Il colore è il sottofino. Il colore è il sottofino. Già con questo disegno la carta disse per sé. Questa è bella. Adesso... La prima volta che le punte di questo pettino incontrano il colore crea una voce. Si guarda che cosa succede dietro al pettino. Questo disegno si chiama pettinato. Un disegno classico delle legature del 1700. Si guardate i risguardi che sono le prime due pagine delle copertine antiche. Hanno tutti questa carta pettinata. Noi facciamo un disegno un pochino più moderno con questo pettine. Lavoriamo il pettinato e creiamo il pavone che è quello che vedete in questi fogli. Sempre dietro al pettine creiamo delle chioccioline che sono la cosa del pavone. Vedete? Nogه? Com'è atem? Hop, qua... Qui guardiamo. Beh oh Adesso tutto il disegno si trasferisce sul foglio, il colore che c'è in eccesso lo abbiamo queste liste, così quando io ho liberato tutto ho la vasca pulita per cominciare a fare un altro foglio, adesso togliamo un po' adesso la magia. Grazie per la visione!